Siamo i compagnoli e un membro dei Jolly Roger, al quale chiederemo di illustrarci l'inizio della collaborazione con lo scoiattolo di Amatrice. Nel 2012 siamo stati contattati da Patrizio per collaborare a un evento che consisteva nella realizzazione di un percorso di tiro statico e dinamico. Grazie all'aiuto di alcuni membri del team siamo riusciti a realizzare un percorso con varie prove di tiro, con nel finale la disattivazione di un missile. La prima edizione del 2012 è stata un grande successo. Nel 2013 abbiamo aggiunto una prova sniper e l'eliminazione di presunte minacce all'interno di un edificio. Nel 2014 replicheremo l'evento per il terzo anno consecutivo. Ci vorrebbe anticipare cosa avete in mente per l'edizione di giugno 2014? Stiamo elaborando diverse soluzioni per rendere le edizioni di quest'anno un grande successo. Socorro mele per il terzo anno.